... ... ... Perchè? Ma che stai? Non d'ho spaventato. Ma è sapicciato più? Cioè, non ci capisco. Cioè, non ci capisco. Non ci capisco. E poi non si capisco. Cioè, ci capisco più. Oh, su, stai, è l'altro. Bisogliò che l'ultimo servizio. Non ci capisco più. No. Ci sono già un po, non ci capisco. Non c'è un po, non ci capisco. Non ci capisco. Ma, quello di andiamo, non ci capisco. Mi sono, non è un po. il nostro corso gratuito www.mesmerism.info